Ciao a tutti, sono Noratus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su Cookserve Delicious 3, ma prima di cominciare volevo farvi vedere, ma in realtà non riesco a farvi vedere perché ho qualche problema con Xplit, ho notato su Steam che è stato rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda Cookserve Delicious, non parlo di un aggiornamento software ma un aggiornamento scritto a mano da David Galindo, lo sviluppatore, dove è stata rilasciata la roadmap del Early Access di Cookserve Delicious 3. Quindi volevo dire un attimo cosa ci aspetta per il futuro, perché come ho già palesato precedentemente, questo è un gioco in Early Access, però a differenza di molti giochi in Early Access che ci restano a vita senza ottenere niente di nuovo, sappiamo che David Galindo ha una garanzia e ci annuncia che a febbraio, e siamo già a febbraio probabilmente nei prossimi giorni, arriveranno due nuovi territori, Achievement per Steam e GOG e Feature Addizionali. Per marzo ci aspettiamo due nuovi territori, New Trinkets Customization, che vuol dire nuova possibilità di customizzare, di rendere personali i Trinket, non so cosa intende con Trinket, forse dobbiamo ancora sbloccarli, forse sono gli upgrade del track, lo scopriamo, magari andiamo avanti, scopriamo di cosa si tratta a tutti gli effetti, e Feature Addizionali. In aprile abbiamo due nuovi territori, Feature Addizionali, e a maggio abbiamo il territorio finale e l'Iron Cook Speedway, che deve essere una gara tra food truck. Sono molto casato, e infine, scusate, mi perdevo la cosa importante, in estate, va rilasciata la versione 1.0, cioè il gioco uscirà per l'Ely Access, e suppongo anche che molto probabilmente potrebbe aumentare di prezzo, dato che finalmente il gioco è stato rilasciato completamente. Quindi, se vi sta piacendo Cookster Delicious, non perdetevi l'opportunità di sostenere lo sviluppatore acquistandolo adesso, sapendo anche che è un gioco che sta venendo continuamente aggiornato, e che ha già davanti a sé un futuro prestabilito. Quindi, basta, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo subito e torniamo con le mani in pasta, letteralmente. Ultima run è stata la run dove abbiamo dimostrato al mondo che si deve solo inchinare al nostro cospetto, dato che abbiamo fatto l'impossibile. Questo menu è classici di Cookster Delicious 2, che io non ho mai giocato, quindi lo prenderò in quel posto. Oppure abbiamo tante tappe, c'è ancora F, è chiuso, e G è chiuso. Quindi andiamo con Cookster Delicious 2, classic, modalità standard. Wow, 4 e 3. L'ultima volta è stata tosta un 4 e 3. Le uova ci piacciono. I fagioli ci piacciono tantissimo, abbiamo scoperto. Buonanotte Dormiglione, o come mi ha fatto notare Steel Not Dragon, adesso è un dragon, vabbè, uno dei nostri utenti più attivi. BND sta anche benissimo come banane nel deretano, e ha anche senso, nel senso, con le frozen bananas, cosa ci sta meglio di banane nel deretano. E i muffin ci piacciono. C'era il polpo, che ci piaceva tantissimo, i wow kemazza e gli onigiri. Secondo me questo menu non è troppo infattibile, è sopportabile, fatemi solo ricordare come si fa il polpo, che non me lo ricordo. L'onigiri me lo ricordo, R-I-S-H-N, il polpo era... oh, forse sì. Ok, perfetto, me lo ricordo, è stato rapido indolore. E aggiungiamo la menu e siamo pronti a incominciare una nuova giornata. Sono carichissimo. Puntiamo a loro? Forse sì. Ma leviamolo forse, dire proprio di sì. 5 tappe, ecco, ritiro tutto quello che ho detto, siamo nella merda. Quindi avevo Pinto Beans e Seasoning, F2 abbiamo B, Buonanotte 2 milione, F3 abbiamo C con Cranberry, F4 abbiamo D con BP. E facciamo un attimo gli onigiri, facciamo i wow kemazza, facciamo gli origiri... o igiri, facciamo i wow kemazza, facciamo gli onigiri... Eh, ci calmiamo un attimo. Mi sa che ho sbagliato. Ho premuto il 5 invece che il 6. Allora, vediamo un attimo. Vanno cotti o sono pronti gli onigiri così? No, sono pronti, quindi non ho sbagliato niente. Perfetto. Calma, 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 non mi metto a pressione, non mi metto a pressione. Facciamo altre uova con BP. E in F6 ci mettiamo A, i fagioli, Pinto e Seasoning, grazie. Ok, forse ci siamo. Perfetto, era tutto giusto. Mi sono preoccupato tanto per niente. Abbiamo in holding station i fagioli, abbiamo finito i muffin, li mettiamo subito con C, Paper Liner, Banana, ok. Ho sbagliato. C, Paper Liner, Banana e la A, ok. Scusate. Stiamo finendo le uova, le rifacciamo subito con D e BP. Ok, ci mancano i muffin, mi sa di sì, o li stiamo facendo? Ne facciamo altri, ne facciamo altri. P e Cranberry, ok. Sta cuocendo tutto. Non abbiamo più fagioli e li facciamo con A e Black Beans. Tranquilli, non sto neanche sudando. Disse dimenticandosi le banane. Con banane e il derretano. E le uova con BP. Nel frattempo, no, volevo fare F3, facciamo altri fagioli, nel dubbio. P e Seasoning. E F6. Mmm, ogni volta sbaglio tasto. Non è un buon segno, eh. E ci serve un'altra uova con la D e BP. A posto. Abbastanza gestita. A sto punto butterei via questi muffin e ne farei di nuovi. No, questi sono fagioli, non sono muffin. Sto sbagliando tanto i tasti, eh. Però, dai. Per ora è tutto gestibile. Basta sbagliarli nella Holding Station perché posso recuperarli. Il problema è quando li sbaglio nell'ordine singolo. Quello è un grave errore. Ora, fortunatamente gli ordini singoli me li so gestire abbastanza. Non so se quasi quasi potrebbe essere un grave errore. Però aumentare le stazioni normali che abbiamo ridotto per evitare di essere sopraffatti. Però oggettivamente per ora è più gestibile. È anche vero, in realtà, che quando ho più stazioni vuol dire che mi arrivano più ordini contemporaneamente mentre siamo alla fermata. Quindi può diventare un pochino più difficile da gestire anche alla fermata, non solo quando ci stiamo per dirigere. Alla fermata, appunto. Cosa ti serve, Fre e le uova? Con... Grazie. Sono, guarda, più che tranquillo. E ti farei altre uova che a quanto pare vanno per la maggiore. E ti farei anche altre banane con B. Ah, in realtà abbiamo troppe banane, vabbè. Ah, i maffi mi mancavano. Con C abbiamo quelli al cioccolato. Siamo a posto. Sono proprio tranquillo. Non ci corre dietro nessuno. Allora, buttiamo via i fagioli e facciamone di nuovi con... Ah, i fagioli sono stati la scoperta del secolo per me. Se ne fanno un botto. Buttiamo via queste banane che sono andate male. Se ne fanno un botto, si fanno velocemente. Ok, adesso vediamo cos'altro voglio una prossima. Siamo già serviti. Pinto Bees e Seasoning. Non ci resta che occuparci dei piatti che arrivano. Siamo... Non so se siamo noi che siamo diventati particolarmente abili. O se semplicemente stiamo avendo delle combinazioni particolarmente fortunate. O se siamo diventati abbastanza sgamati. A fare le... A costruire i menu. E a non fare cose che ci renderebbero la vita impossibile. Wow, questo è stato veloce. Facciamo di noi i muffin. Che sono sulla C. Paperline e Brann. Che con la B. Ok, facciamo. I nostri amici onigiri. Facciamo i wow che mazza. Facciamo gli F6. Facciamo uova. Che ne vogliono tante. Facciamo wow che mazza. Facciamo Rish. Oggettivamente non sono neanche troppo preoccupato. Del preparare troppe cose in anticipo. Nella holding station. Perché sono tutti cibi che riesco a preparare molto velocemente. E che non mi danno troppi problemi. Quindi non... Potrei sapere cosa però rifare le banane. Che giustamente sono... Stavano proprio andando male. Voilà. No, ho fatto un ordine sbagliato. No problemi chef. Questa è un'onta. Il mio nome mi dice Ristart a livello. Però immagino anche che vi stia sulle palle Ristart a livello. In un livello così facile in cui sbagliato... Finiamo sto livello e portiamoci questa onta a casa. Perché dovremmo portare con noi... Devo fare le uova. Il senso di disperazione è dato dall'aver fallito. Dovete sentire la mia delusione. Fa male qui, eh. Fa male qui. Ma tanto male. Ci mancano... No, non volevo fare questi. Volevo fare le maffie. Ah, volevo fare anche i fagioli in realtà. Con pinta e seasoning. F5. C. Che amarezza. Che amarezza. Poi cos'era tra l'altro che ho sbagliato? Non ho mica capito. Ho sbagliato il marshmallow? Mi sa di sì. Mi sa che ho sbagliato il wow che mazza. Che fastidio. Che fastidio. Che era una delle cose più facili. Poi devo andarmi a rivedere il video per capire che tasto ho sbagliato a premere. Eh. Una X rossa lì sopra fa proprio male all'anima. Vediamo cosa potrebbero desiderare. Intanto li facciamo... Ma niente in realtà. È una stazione più che tranquilla. Possiamo pure riposarci. Però ci manca qualcosa. Boh. Facciamo... Ma altre uova non si guarda. Per me... Non possiamo fare niente. Siamo pronti su tutto. Chi ha... Chi ha mares? Guardate. Cioè dai. Aver sbagliato un ordine così a caso... Ah. È un oro. È un oro facile. Vabbè. Arriverà il giorno in cui torneremo indietro a fare tutti gli oro che non abbiamo presi. E onestamente finché saranno tappe così facili sono solo che felice perché mi renderà possibile fare un video tranquillo. Anche vero che sentirmi sicuro come meno male mi sto sentendo come potete notare dall'arroganza con cui approccio tutte queste giornate mi porta a parlare di più che è bene per voi dato che c'è un po' di commentari ma mi... Cioè parlare di più mi porta anche a essere più prono a commettere errori. Cosa vogliamo fare? Friendsgiving ci attaccano. Magari lo facciamo dopo. Un menù da 7 punti. Sono curioso. Perché sono poche cose ma devono essere buone. I pancake. La moussaka ci piaceva. Il tiramisù ci piaceva anche. Non mi ricordo... Poi devo anche fare la pratica della moussaka. lcmp 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 giusto ok nient'altro ti aggiungiamo voglio ripraticare la moussaka scusate perché mi piace avere ah sono un idiota come sempre con la moussaka era b mp e c è abbastanza facile eh ho sbagliato vabbè mettiti pancake nel dubbio b c mp ok no ho sbagliato non è un problema comunque finché siamo a sbagliare nelle holding station per me non è un problema benvenuta e siamo a 2 3 4 5 ci servono 2 punti e mettiamo questo che era lala my way e questo che era l'onigiri che era rishn un menu tranquillo un menu che dovremmo riuscire a gestire molto bene buongiorno perfetto siamo pronti nati per questa missione moussaka b mp e c ok tiramisù ai lcmp lcmp ok f3 facciamo altro tiramisù con lcmp lcmp facciamo anche dell'altra moussaka con b mp e c facciamo adesso dei pancake facciamo la my way stavo sbagliando ero sicuro mi avesse preso dei tasti che non mi aveva preso ok in f6 vogliamo mettere nient'altro siamo a posto per ora potremmo anche metterci qualcosa ci mettiamo dell'altro tiramisù lcmp sperando che non vada male troppo velocemente ah mi sta scappando questo ok cacin cacin ah devo condire i pancake dimenticavo pancake e sto bene pancake e sto bene e sette i pancake e blueberry e uno i pancake e strawberry e quattro i pancake e maple perfetto cosa vogliamo signori del tiramisù con lcmp lcmp moussaka siamo a posto ma andrà male quindi ne facciamo altra b mp e c f3 facciamo c tanti pancake e f5 c tanti pancake ho detto calma so che siamo a metà ma facciamo subito gli onigiri facciamo subito gli onigiri e facciamo subito le cose avvolte nelle foglie di banane di cui un giorno imparerò il nome f4 senti lo butiamo via ne facciamo del tiramisù perché una volta ci manca quello siamo a posto ah no c'è arrivato un altro e ovviamente un altro all'ultimo secondo e voilà e io sono fai pancake e pecan pancake e pecan pancake e blueberry 7 ai pancake e blueberry di nuovo 3 ai pancake e blueberry di nuovo 4 ai pancake e strawberry e 7 che gli da di più pancake e strawberry 4 pancake e strawberry 5 pancake e pecan 1 pancake e blueberry rifacciamo tutto b mp e c f2 abbiamo la b con lcmp grazie per il tiramisù c con un botto di pancake f5 fai di nuovo c con un botto di pancake f6 facciamo tiramisù che abbiamo più ordini di tiramisù la prossima tappa siamo pronti un attimo di già non ci preoccupiamo e 5 mi sento troppo professionale tra l'altro devo ancora farmi da mangiare nella vita reale e mi sento lanciato per cucinare anche nella vita reale cioè i miracoli che può fare cook serve delicious fra un po' mi rende anche un essere umano che mangia cibo di una certa qualità poi se lo cucino io perde tutta la qualità che posso avere l'imprendimento originale però almeno ci proviamo siamo pronti quando vuoi faccio uscire un po' di tiramisù che ci stava andando male grazie pancake pecan pancake food berry pancake maple pancake food berry ogni tanto faccio partire qualcosa abbiamo finito la musaka non c'è problema bmpec se avete la pazienza di attendere un attimo gentili clienti tanti pancake perché gli piace i pancake alle persone giustamente come dire di no a un pancake e ah ho finito i pancake mannaggia alla minchia mannaggia ok sono tranquilli perché ne abbiamo messi su altri ci serve il tiramisù non vi preoccupate lo prepariamo subito ah quindi uh stavo facendo bruciare un pancake e ok fatto abbiamo preso l'oro no? sì direi di sì non abbiamo sbagliato niente stiamo solo aspettando che il tiramisù sia abbastanza fresco ad essere servito sono questi che sono lì che aspettano che ho messo il tiramisù in frigo e aspettano che sia pronto voilà il tiramisù più buono che voi abbiate mai mangiato ok non è stata una run ai livelli di quella precedente difficoltà non troppo impennata onestamente ormai sappiamo anche gestire i nostri piatti mi dispiace tantissimo per l'agento precedente perché fa male all'anima non me l'aspettavo devo andarmi a rivedere il video per capire che cazzo è successo lì in mezzo perché proprio proprio non me l'aspettavo e ancora non siamo arrivati a un upgrade abbiamo appena usato tutte i cavetti per l'upgrade quindi non ci possiamo lamentarvi di tanto bene io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un mi piace condividete con il mi piace sapere il genere iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo fantastico video grazie a tutti grazie a tutti